L'Officine Mazzolari SRL si occupa della produzione di ricami per mulini, lamire forate e reti metalliche. La gamma dei prodotti comprende martelli, griglie, perni portamartelli, tutti i ricambi e accessori vari di usura per mulini e magimifici. La nostra ditta parte da lontano 1975 e da allora fornisce i più grandi magimifici, molini, impianti di macinazione generica in Italia e anche all'estero. Siamo presenti appunto in Germania, Francia, Spagna e anche nei paesi del Medio Oriente e anche in Africa. Con la formula pronta consegna siamo in grado di evadere e ordine in tutta Italia entro 48 ore. L'ufficio tecnico interno è sempre a disposizione dei clienti per eventuali richieste specifiche, connesse alla modifica e personalizzazione dei ricambi stessi. La flessibilità e la specializzazione rappresentano i nostri punti di forza.